Risotto con zucca e noci. Un primo piatto semplice, ma saporito e nutriente, perfetto per una cena invernale, il risotto alla zucca e noci. Una combinazione di sapori che si sposano armoniosamente, donando al piatto una nota di dolcezza e una consistenza cremosa. Per prepararlo basteranno pochi ingredienti, che si possono acquistare facilmente al supermercato. Per un tocco di croccantezza, aggiungi una buona manciata di noci al momento di servire. Ingredienti, riso, zucca, cipolla, burro, brodo vegetale, noci, sale, pepe, parmigiano. Tempo di preparazione, 20 minuti. Difficoltà, media. Istruzioni. Taglia a cubetti la zucca, dopo averla sbucciata e pulita. Tienila da parte. In una pentola capiente, metti una noce di burro e fai soffriggere la cipolla tritata finemente. Aggiungi la zucca e fai rosolare per qualche minuto, mescolando di tanto in tanto. Aggiungi il riso e mescola bene per farlo insaporire. Versa il brodo caldo a filo, mescolando con un cucchiaio di legno, fino a quando il riso non sarà completamente cotto. Tira fuori la pentola dal fuoco, aggiungi una noce di burro e una grattugiata di parmigiano, mescola bene e lascia riposare per qualche minuto. Servi caldo, guarnendo con una manciata di noci tritate.